Quante volte li sei trovata con il telefono in mano e un punto interrogativo in faccia che diceva E oggi cosa pubblico? Come andrà questo post? Come cavolo fanno quelle brave ad avere una settimana di post sempre pronti in anticipo? In questo video ti darò alcune idee per sapere sempre cosa pubblicare sul tuo profilo Instagram Business. La prima domanda da farti, che è sempre quella più importante, sempre quella su cui ribatto e ribatto, è perché lo fai? Ogni post che pubblichi su Instagram e sulle altre social ovviamente dovrebbe sempre aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo. Ma su Instagram qual è il tuo obiettivo? Perché hai un profilo Instagram? Come puoi essere utile ai tuoi potenziali clienti? Senza la risposta a queste domande mi dispiace dirtelo ma non vai da nessuna parte e non atterrai mai nulla dalla fatica e dall'impegno che metti su Instagram. Poi devo farti qualche esempio. Potresti essere su Instagram perché vuoi trovare il tuo cliente ideale, anzi di solito è farti trovare il tuo cliente ideale. Vuoi essere su Instagram perché vuoi costruire la tua credibilità? Vuoi far conoscere i tuoi prodotti? Vuoi aiutare le persone? Vuoi creare una community di persone interessate a quello che fai e farle diventare ovviamente il più possibile i tuoi clienti? In base agli obiettivi che hai cambieranno anche i post che condividi. Il trucco è partire dagli obiettivi che hai, ovviamente scrivendoli, e poi lavorare a partire da quelli al contrario, quindi spacchettandoli e partendo a ritroso. Ad esempio, se il tuo obiettivo è costruire una credibilità, potresti pubblicare dei post che parlano di, faccio un po' un elenco, il tuo processo di lavoro, testimonianze o recensioni dei tuoi clienti, delle persone che hanno già lavorato con te, potresti parlare di quello che sai, delle tue competenze, ovviamente sempre con un linguaggio che sia pensato per le tue impotenze dei clienti e non per i tuoi colleghi, mi raccomando. Potresti far vedere dei prima e dei dopo del lavoro con te. Invece, non so, se il tuo obiettivo è aiutare le persone, allora potresti postare dei tutorial della tua nicchia, del tuo argomento, delle tips and tricks, quindi delle piccole sfiziosità, insomma, delle cose per lavorare meglio, fare delle Q&A, quindi raccogliendo delle domande e rispondendo. Soprattutto parla delle cose per cui vuoi essere conosciuta. Scegli i tuoi magnifici sei, io li chiamo così, ci sono le sei cose, più o meno sei, una più o una meno non importa, per cui vuoi essere conosciuta e ricordata. Fai una selezione, ovviamente, delle cose che ti contraddistinguono. In questo modo le persone capiranno più chiaramente quali sono gli argomenti di cui ti occupi e di cui si occupa il tuo account e ti collegheranno a quegli argomenti. Diventerai il loro punto di riferimento per quell'argomento e sarà anche più facile per te organizzare i contenuti. Ad esempio, facciamo un esempio, sei una dietista, potresti parlare del tuo stile di vita sano, di come organizzi i tuoi pranzi e le tue cene, di come fare la spesa al supermercato, di qual è la frutta e la verdura di stagione, potresti rispondere alle domande dei tuoi follower, oppure ai trend sulla nutrizione più o meno sani che vedi apparire su Instagram e quindi fare educazione sulle regole generali dell'alimentazione. Ma come fai a sapere quali sono gli argomenti giusti per te? Devi pensare ai tuoi clienti, devi cercare di capire cosa li motiva, cosa li ispira, cosa li mette in difficoltà, di quello che tu sai, loro che cosa vorrebbero sapere da te, quali sono i tuoi argomenti che loro interessano di più, cosa ti chiedono più spesso, cos'è che li manda in crisi, cosa stanno cercando di raggiungere con tutte le loro forze. Non è la più palida idea? Normale. Chiedi direttamente a loro con un post su Instagram, oppure puoi usare i sondaggi o le domande sulle stories. Ricordati sempre di metterti nei loro panni. Ovvio, premessa, tu non sei il tuo cliente, questo è chiaro, però prova comunque a metterti nei loro panni. Cosa vorresti vedere, imparare o sapere sulla tua nicchia? Se non ti viene in mente nulla, pensa a quello che ti interessa, interessa a te di altre nicchie. In questo modo elimini immediatamente dalla testa il che non è banale, cosa vuoi che gliene freghi. Quando tu per prima vorresti sapere dietro le quinte di tutti i lavori, tranne il tuo, sarà così anche per i tuoi clienti, le tue potenziali clienti? In che cosa sei brava? Usare Instagram postando cose di cui non sei appassionato ovviamente non funziona, perché ti stufierai prestissimo. Come sempre, anche su Instagram, cerca di essere te stessa e non ti snaturare. Se sei normalmente una persona felice ed entusiasta, le persone lo sentiranno. Se sei autentica, le persone si sentiranno proprio agio a interagire con te. Ad esempio, cosa ti piace fare nel tempo libero? Cosa crei? Da dove vieni? Qual è la tua storia? Cosa stai studiando? Che cos'è che ti appassiona un casino in questo periodo? E qual è il prodotto o il servizio a cui tieni maggiormente? Non pensare a Instagram come a un social super complicato, perché se pensi che sia super complicato, lo diventerà. In realtà, Instagram è un social molto semplice ed è giusto che tu lo prenda con leggerezza, senza ipercomplicare le cose. Prenditi un quaderno, un foglio di carta e un po' di tempo per rispondere a queste domande che ti ho fatto e se ne vuoi altre, per andare ancora più in profondità, puoi scaricare il mio offribile domande da farti su Instagram. Ti basta cliccare sul mio link in bio oppure mandarmi un messaggio privato e ti manderò direttamente il link. E mi raccomando, ricordati che la banalità non esiste. E mi raccomando, ricordati che la banalità non esiste.